Oggi conosceremo il panda minore o panda rosso, che è purtroppo una delle 100 specie a maggiore rischio d'estinzione. Nel frattempo iscrivetevi al canale per supportarlo e conoscere sempre meglio l'immenso mondo degli animali. Nella lingua cinese è chiamato letteralmente volpe di fuoco, espressione che ha ispirato i creatori del broswear Firefox. Si tratta di un parente parecchio lontano del panda gigante, con cui ha in comune la presenza di un falso pollice che si estende dall'osso del polso e che va a costituire apparentemente un sesto dito nelle zampe anteriori. Questo è corredato di un cuscinetto carnoso che agevole entrambi nell'afferrare il bambù, di cui sono ghiotti. Dal punto di vista genetico e tassonomico, tutti e due fanno parte del sottordine dei cani Formia, ma il panda gigante viene riconosciuto a tutti gli effetti come membro della famiglia degli orsi, mentre il panda minore appartiene alla superfamiglia dei musteloidi, come anche i progioni, con la quale per alcuni versi ha delle somiglianze. Infatti, prima anche il panda rosso veniva incluso nella famiglia dei progioni, ma è stato poi classificato come facente parte ad una famiglia a sé stante, quella degli ailuridi, di cui adesso è l'unico rappresentante vivente. Il suo nome scientifico, comprendendo genere e specie, è Ailurus fulgens. Dunque, è un mammifero facente parte dell'ordine dei carnivori, ma in realtà si nutre prevalentemente di vegetali. Infatti, nella sua dentatura, spicca animolari appiattiti, che sono perfetti per triturare il bambù, ma oltre a questo mangiano anche foglie, frutti e radici, e solo occasionalmente insetti e piccoli vertebrati. Per bere, a volte, usa un sistema curioso, e cioè mette la zampa nell'acqua e poi la lecca. Negli adulti, la lunghezza di corpo e testa va dai 50 ai 64 cm, con un peso compreso tra i 3 e i 6 kg. La coda è molto folta e lunga, può andare infatti dai 28 ai 59 cm, e presenta anelli di colore rossiccio alternati con anelli color ocra. Essa è importante per il suo equilibrio, e inoltre lo aiuta a mimetizzarsi fra gli alberi ricoperti di muschi e licheni, ma a differenza di altri animali arboricoli, la sua coda non è prensile. La pelliccia è molto morbida e soffice, funziona da isolante termico nelle zone ricoperte da neve e ghiaccio, e ricopre le ghiandole odorifere presenti nell'ano. Questo manto è di colore marrone rossiccio, simile alla ruggine nella parte superiore, e nel rastro in quella inferiore. Il muso è proporzionato e chiaro, e sul viso ha dei segni bianchi che possono essere distintivi per ogni individuo. La testa è tonda, con orecchie verticali, e la mandibola è molto forte. Il naso è nero, ma gli occhi sono ancora più scuri, quasi neropegie. Le gambe sono corte e nere, e le zampe sono ricoperte da fitti peli. È dotato di artigli lunghi e robusti, semiretrattili, che gli permettono di tenere saldamente i rami e le foglie di bambù mentre mangia, e di arrampicarsi e saltare in velocità tra gli alberi con maggiore sicurezza. Inoltre, è uno dei pochi arrampicatori che, quando scende da un albero a testa in giù, ruota le caviglie per mettersi in quella posizione. Quando dorme, bivacca sugli un ramo prescelto, lasciando le zamba a penzoloni e avvolgendo la coda al corpo. È territoriale, cioè si muove sempre nella stessa zona, seguendo sempre gli stessi percorsi preferenziali, e vive in totale solitudine ed autonomia. Può capitare di vedere più di un esemplare durante il periodo dell'accoppiamento, o quando c'è una maggiore concentrazione di cibo. Nel periodo degli amori, i maschi segnalano la loro disponibilità secernendo sostanze odorose, con le urine, e l'accoppiamento avviene quasi sempre in inverno. Durante la gestazione, che dura circa 130 giorni, la femmina prepara un nido riparato e reso comodo dall'aggiunta di piccoli rami ed erba. La cucciolata può essere composta da un minimo di uno a un massimo di quattro piccoli, e per i primi giorni di vita, essi saranno accuditi molto amorevolmente dalla madre, mentre in seguito essa cercherà di avviarli ad una vita autonoma, lasciando il nido per periodi sempre più lunghi. Con il passare del tempo, il rapporto mamma-figlio si allenterà, fino ad avere dei veri e propri segni di insofferenza molto aggressivi, che porteranno allo smembramento del nucleo familiare, e nel complesso rimangono con la madre per circa un anno. I pandarossi vivono in una zona ristretta dell'Asia, compresa tra Nepal, India, Bhutan, Myanmar e Cina. Predilige le foreste temperate sia conifere sia caducifoglie, situate ad altezze comprese tra 2200 e 4800 metri di altezza, dove si hanno poche oscillazioni di temperatura annuali. In alcune province dell'Agina, il pandarosso è ormai estinto. Tra le cause di questa massiccia diminuzione, c'è la riduzione e frammentazione del suo habitat, e inoltre subisce anche la pressione dei bracconieri, che li catturano sia per la pelliccia che per venderli come animali da compagnia. Recentemente in Nord America sono stati ritrovati dei fossili attribuiti ad una specie estinta di panda minore, il Pristinailurus bristoli, e un altro possibile parente fossile è Simogion, un grosso e insolito carnivoro vissuto nel Miocene in Europa, Asia e Nord America. Il Simogione aveva un corpo agile e forte, e una taglia simile a quella di un puma, e denti affilati che lasciano supporre una dieta carnivora. Ma era dotato di falso pollice, come il panda minore e gigante, e una spina lombare che somiglia molto a quella dei musteridi. Forse il falso pollice gli serviva per arrampicarsi sugli alberi, fuggendo ai predatori più grandi di lui. Sulla base delle differenze morfologiche, come colore del mantello, anelli della coda e morfologia del cranio, si distinguono due sottospecie, Ailurus fulgens stiani, la sottospecie cinese, e Ailurus fulgens fulgens, la sottospecie himalaiana. Tuttavia, alcune differenze sono tali che alcuni studiosi hanno proposto di classificarle come due specie distinte, ma questa divisione è di difficile attuazione, poiché sulle due sponte del fiume Nuiang, che rappresenta il confine geografico tra i due gruppi, i panda rossi sono molto simili tra loro e quindi difficilmente assegnabili all'uno o all'altro gruppo. Grazie per aver guardato questo video, se il contenuto vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivando la campanella per scoprire gli altri animali di cui parlerò. Un saluto e a presto!